C'è il parere dei ministeri competenti sul discusto decreto ministeriale 50 in materia di sanità. Arrendolo pubblico il dirigente generale al Dipartimento regionale tutela della salute Riccardo Fatarella che ha diramato un comunicato. Facendo seguito, dice, alle mie dichiarazioni rese nel corso della conferenza stampa del 4 aprile scorso comunico che è pervenuto il parere numero 59P del 11 aprile 2017 reso dai ministeri affiancati a seguito del tavolo di verifica con il quale si chiarisce in via definitiva che al di là del merito del provvedimento pure osservato in più punti il decreto 50 2017 non può essere ritenuto valido in quanto non è stato sottoscritto dalla struttura commissariale nella sua interezza. Si rinvia al parere e si resta in attesa di ricevere un nuovo decreto commissariale sottoscritto dalla struttura commissariale nella sua interezza corredato anch'esso da una relazione tecnico-illustrativa. Alla luce di quanto comunicato, aggiunge Fatarella, spetta ora le aziende del servizio sanitario che incautamente hanno dato seguito ad un provvedimento non valido porre in essere i dovuti provvedimenti di autotutela con la massima sollecitudine. Questo decreto che il Dipartimento ha scritto, ha voluto insieme alla struttura commissariale e ha firmato, è stato sottoscritto dal commissario Scura. C'è una direttiva del Ministero che dice che i decreti devono avere la firma di entrambi i commissari, una direttiva scritta e senza la quale firma il decreto non è completo. Quindi non basta la firma del commissario, di uno dei due commissari, occorre la firma di entrambi. Questa era la direttiva ed è la direttiva che ha il Dipartimento. Quindi il Dipartimento non può pubblicare un decreto che non sia completo perché come pubblicare una legge che non è firmata dal Presidente della Camera o del Senato o di entrambi i rami del Parlamento, non può mandarla avanti fino a che non avverrà la seconda firma che deve mettere il subcommissario. Ce l'aspettiamo, io ho già segnalato questa vicenda ai ministeri affiancanti affinché mi dicano se è cambiata la norma e basta la firma del commissario. Io non vedo l'ora di pubblicarlo. Avereva di uscire sulla stampa, mi scusi, non si poteva verifichere prima perché appare la notizia di 600 assunzioni. Questo parlatene con chi fa gli annunci prima che gli atti diventino completi. Ma qualcuno sta già operando in merito o è bloccato? Non è bloccato, non è ancora uscito. Una legge finché non è pubblicata in gazzetta ufficiale non esiste. È una proposta, è un'idea, è un progetto attivato, è una proposta di legge approvata dalle camere ma entra in vigore al momento in cui viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Noi dobbiamo pubblicarla sul bollettino regionale o il bollettino telematico come ormai da anni facciamo. Tutto qua. Quindi io non ho problemi sul merito del decreto. Non vedo l'ora di pubblicarlo. Anche perché c'è sete di assunzioni. Ma non c'è dubbio, non discutiamo nel merito. Il merito non è in discussione. Quello che è in discussione è quando un decreto diventa tale. Fino ad oggi le direttive dei ministeri di entrambi, più volte reiterate, sono che i decreti se non hanno la doppia firma non esistono ancora. E così è stato fatto fino ad oggi. Quando ci sarà la doppia firma, che io spero presto, abbiamo il tavolo di monitoraggio martedì, quindi penso che entro martedì chiariranno le cose. così come è stato finora.